Perché i gatti cadono sempre sulle zampe? Un talento innato per l'equilibrio e la sopravvivenza. Ciao e bentornati su Sfigatto, il canale dove ogni curiosità sul mondo felino trova risposta. Oggi esploreremo uno dei fenomeni più affascinanti e noti del comportamento felino, la sorprendente abilità dei gatti di atterrare sempre sulle zampe. Ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perderti nessun nicio contenuto. Il segreto di questa incredibile capacità risiede in un riflesso innato chiamato riflesso di correzione. Questo meccanismo permette al gatto una volta rilevata la perdita di equilibrio durante una caduta di ruotare il corpo in aria per atterrare correttamente sulle zampe, un vero e proprio capolavoro di fisica naturale. Il corpo flessibile e la struttura scheletrica unica dei gatti giocano un ruolo fondamentale in questa abilità. La loro colonna vertebrale, estremamente flessibile, unita a un senso dell'equilibrio eccezionale, permette loro di effettuare la rotazione necessaria per la correzione della postura durante la caduta. Un esempio spettacolare di questa abilità è il caso di un gatto a New York che è sopravvissuto a una caduta dal 32esimo piano. Questo incredibile evento dimostra non solo la resilienza dei gatti ma anche la loro straordinaria capacità di atterrare sulle zampe in situazioni estreme. Tuttavia è fondamentale comprendere che questa capacità ha i suoi limiti. La velocità limite raggiunta grazie alla struttura leggera e alla pelliccia spessa dei gatti gioca un ruolo cruciale nella riduzione dell'impatto delle cadute d'altezza elevata. ma è cruciale ricordare che cadute d'altezza estreme possono causare gravi danni. Mentre questa abilità contribuisce alla fama di agilità e resistenza dei gatti, specialmente in contesti urbani è essenziale adottare misure di prevenzione per proteggere i nostri amici felini da cadute accidentali, misure come la sicurezza di balconi e finestre. Nonostante l'incredibile abilità dei gatti di atterrare sulle zampe ci sono eccezioni e situazioni in cui potrebbero non riuscirci. La salute, l'edà del gatto e l'altezza della caduta possono influenzare il successo dell'atterraggio. La prossima volta che vedi il tuo gatto eseguire una caduta apparentemente impossibile e atterrare agilmente sulle zampe ricorda che stai assistendo a un'incredibile combinazione di fisica, anatomia e istinto. Questa straordinaria abilità dimostra ancora una volta quanto i nostri amici felini siano creature sorprendenti. Ora è il tuo turno. Hai mai assistito a un'incredibile caduta del tuo gatto che è atterrato sulle zampe? Condividi la tua esperienza nei commenti qui sotto e se ti è piaciuto il video lasciaci un like e non fermarti a questo video. Se vuoi scoprire altri affascinanti segreti del regno felino, continuo a seguire Sfigato per più curiosità e storie emozionanti. Alla prossima!